Questo è il Logbait e oggi lo andremo a replicare su Clash Mini, esattamente continua questa serie un po' mistica, un po' paurosa dove noi proviamo tutti i deck, abbiamo già fatto il 2.6, abbiamo fatto il deck di Ciccio, abbiamo fatto il deck di Grax di 6 anni fa e oggi proseguiamo con il mio deck di Clash Royale, cioè il mio deck preferito, il Logbait, questa è la versione che uso io però comunque c'è anche questa che è molto simile quindi faremo un po' un misto, un insieme di varie versioni, quindi faremo il Logbait oggi su Clash Mini, vi chiedo un bel like, iscrizione e campanellina e partiamo allora innanzitutto per fare un Logbait noi ci prepariamo già un bello slot, ok eccolo qua, bisogna mettere i giusti mini, ok alcuni ci sono altri meno però ci arrangeremo vi ricordo che se in questi giorni salto qualche contenuto e non lo posto sempre è perché non so che video mettere, perché non ci stanno contenuti comunque nel Logbait innanzitutto c'è la Princess, eccola qua, la equipaggiamo, costa ben 5 e come notate c'è pure qua la Principessa, quindi content poi sicuramente servono i Goblin, essendo che il Logbait è pieno zeppo di Goblin, dobbiamo mettere più Goblin possibili quindi sicuramente lo Spear Goblin c'è perché bisogna creare la Gang Goblin insieme al Goblin Pugnale e già siamo messi bene poi nel Logbait ovviamente abbiamo pure il Cavaliere, qua sotto, eccolo là il Cavaliere, quindi lo equipaggiamo se lo trovo, ecco qua il Cavaliere, ovviamente sono tutti schinnati quindi ci assomigliano un po' così e poi cosa manca? La Torre Infernale non ce l'abbiamo, il Legno non ce l'abbiamo, il Tronco, lo Spiritello non ce l'abbiamo e l'Arazzo diciamo che una volta esistevano i Gismo, adesso non più però, però possiamo utilizzare un'altra versione del Logbait questa qua è un po' diversa, c'è il Principe Nero, io il Principe Nero non ce l'ho però viene anche utilizzata la Fuorilegge, quindi io tenterei, la rischierei così, proprio la rischio mettiamo la Bandita, la Fuorilegge, come si chiama, non lo so e adesso tocca pensare all'eroe, una macchina da guerra, così poteva provare a fare il Gismo e magari pure il Razzo però non ce l'abbiamo quindi ci accontenteremo di mettere... ho una Pink Fury però no, non c'ha nessun collegamento Monaco, forse l'Archer Queen o Archer Queen, o Contessa, o BK, no quindi mettiamo o Archer Queen o Contessa forse Archer Queen è meglio, forse Archer Queen è meglio via, ci proviamo, io sto pure rischiando a fare sti vid dove provo i deck perché visto che non sono arrivato ancora a 3000 coppie, io ancora non ho ottenuto l'Avatar quindi ovvero giorni di pieno tryharding in stato estremo comunque, eccoci qua col nostro Logbait mamma mia raga, ma io mi voglio proprio far del male Logbait, che sul Royale si usa così, Cavaliere davanti, Bariletto Goblin dal lato opposto però al momento noi ce ne stiamo fermi, direi che possiamo mettere la Bandit forse la Bandit o la Principessa forse la Principessa, però la Bandit potrebbe essere molto utile allora il mio brother avversario c'ha Grand Warden e Mago Zap e qua la situazione diventa un po' critica perché come facciamo col Grand Warden e il Mago Zap? ce la faremo, però ce la faremo allora, io metterei qua un bello Spear Goblin che secondo me è rivoluzionario qua Bandit, la Principessa che fai non la metti qui anche se forse metto la Princess nello specchio secondo me così spaccata, va bene e a sto punto, no a sto punto stiamo un po' fermi perché sto mettendo già troppe troppe però questa, questa, ok lui ha messo il Cavaliere comunque raga, Logbait forse il primo vero deck che si può fare completamente su Clash Mini perché praticamente i mini ci sono un po' tutti oh, dovrei riuscire, devo riuscire a fare l'energia della Principessa il prima possibile che danni, che danni mamma mia raga Logbait, nuovo best deck di Clash Mini chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa lo vedremo, lo vedremo allora, rerolliamo ok, qua c'è il Goblino Principessa mettiamo che fa più danno a sto punto mettiamo pure l'altro Goblin sopra lo specchio per il meme, più siamo meglio è oh, il Mago Zap è un problema il Mago Zap è un problema ma no, niente raga, andato a finire male ci volevo un Domatore di Cinghiali oh, che danni però forse se potenzio l'Archer Queen con l'invisibilità potevo vincere potevo vincere perché la Principessa è fondamentale potenzio la Princess con l'energia Spear Goblin che fa più danno e niente, l'Archer Queen al prossimo round se sopravviviamo lui ha messo la moschettiera allora, qua bisogna un attimo vedere com'è la situazione perché io ve la vedo davvero, davvero male raga la vedo malissimo, malissimo eh, vai Princess, ti prego, vai, vai, attacca, attacca Principessa, attacca, attacca, attacca eh, però niente, non ce la facciamo no, no, no male, 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 male niente, meno 11 coppe per me 11 coppe so tante no, adesso le devo recuperare però, ci riproviamo ci riproviamo facendo un piccolo cambiamento al nostro tech Logbait e mettendo un Nogrider un Nogrider, ok potentissimo a fare danni perché un Nogrider secondo me poteva poteva servire ci siamo? Ok andiamo in battaglia col deck Logbait siamo contro la Pink Fury e niente perché la Pink Fury è forte raga Pink Fury sta season credo il mini più uno degli eroi più rotti Cavaliere qua davanti che vi devo dire Principessa nello specchio Princess allora, ok, con calma facciamo una cosa alla volta dopo mettiamo la Princess nello specchio no, l'avversario so che deck sta usando è quello che utilizzo pure io tipo da oggi che è molto forte però, eh, mi farà molto male mi farà molto male però essendo che io già conosco il suo deck lui ci avrà Pink Fury Golem di Lysir Arcerina Boscaiolo Diffusore e un Emote che compare qua schermo a caso allora, Principessa che può essere decisiva Goblinino interessante Domatore che non ha senso potenziamoci la Princess io punterei tutto sulla Princess a dire il vero io punterei tutto sulla Princess quindi rerolliamo e speriamo di trovare un altro potenziamento al prossimo round lui c'è tantissima ecco, vabbè, raga deck prevedibile il suo si capiva fin da subito e mo so cavoli e mo so cavoli e sì però con la Principessa se ce la giochiamo bene ma lo sai che zitto, zitto io ti consiglio di andarmi a seguire sui stanchieri perché è importante è importante al momento non posto niente non faccio niente quindi non ha tanto senso ma preparatevi perché da febbraio sarò più potente di prima cioè tornerò tornerò sarò un Influencer fa abbastanza ridere vabbè, comunque Goblinino qui che fai te ne privi e no che non te ne privi facciamo una una cosa del genere giusto per fare danno subito fino all'inizio e non perdere tempo ah all'Arcere Magico questo non l'avevo considerato ma proprio per niente abbiamo ancora la Princess che i danni li fa però la Pink Fury raga la Pink Fury però ci ha dato mamma mia raga l'invisibilità dell'Archer Queen mi ha salvato sarei morto tutto grazie alla invisibilità allora Domatore di Cinghiali qua per far perdere tempo raga ma proprio per far perdere tanto di quel tempo tutto da quel lato giusto per perdere tempo che non voglio avere problemi non voglio far non voglio rischiare quindi metto Domatore Goblinino così da così l'Arcere Magico punta davanti e nomita la mia Princess eccola qua è da venerare e proclamare ha pure il Cerbottaniere allora diciamo che due mini li avevo sbagliati però comunque il deck si basa su quello eh diciamo che è un po' rischioso però comunque raga direi easy win no mi devo stare zitto ma quanto godo quanto godo log bait deck migliore del mondo abbiamo fatto pure le coppe che è quello che che mi interessa in realtà ottimo missioni del pass e niente raga log bait che ci porta a fare vantaggi competitivi guarda quante missioncine che ancora non sono arrivato manco a livello 60 sono un bot riscattiamoci tutte le missioni dimmi che non arrivo nemmeno a livello 57 vabbè comunque 10 frammenti ce li portiamo a casa va benissimo così tra poco ce la faremo a finire il pass si si dai detto ciò ragazzuoli per questo video è tutto io spero che il log bait vi sia piaciuto consigliatemi nei commenti altri deck da provare di clash royale qua su clash mini magari non so conoscete altri deck il me activo torre io mi ricordavo questo però vabbò me activo torre o altri deck che conoscete su royale me lo scrivete nei commenti e io lo proverò nel video prossimo per il meme guardate i video che sono appena apparsi col canto e sul più bello dell'altro fate l'abbonamento e supportarmi e noi ci vediamo in un prossimo video su clash mini ciao ciao